Perché è così comodo e piacevole fare la spesa a domicilio con Iceman? Sappiamo quanto sia importante per te il gusto di mangiare bene e sano a casa. Ci impegniamo a portarti il meglio ogni giorno in Italia da 33 anni, sempre con la stessa passione. In Iceman, tutto, ma proprio tutto, è stato scelto con cura. Come se a tavola dovessimo sederci anche noi. Il viaggio delle nostre prelibatezze inizia con la scelta delle migliori materie prime. Grandi chef studiano ricette esclusive con ingredienti nobili, per farti degustare i sapori più veri e genuini. Nessuno dei nostri fornitori è con noi per caso. Prima di entrare in Iceman, li mettiamo sempre alla prova. Inoltre, ovunque occorre, effettuiamo un'analisi del DNA sugli alimenti ittici. Per certificare provenienza e tipologia. Siamo maestre del confezionamento e della glassatura nel pesce. Psss, ci teniamo a dirtelo. Rispettiamo sempre il valore del peso netto di ogni confezione. Ci piace affermare che mangi tutto quello che compri, senza scarti. Il viaggio per arrivare a casa tua continua tramite la più certificata catena del freddo mai adottata. Così, manteniamo i prodotti perfettamente surgelati, con le loro caratteristiche organolettiche e i loro principi nutritivi intatti. Come appena freschi. Poi, c'è la parte più bella. Se c'è una cosa che adoriamo fare in Iceman, è incontrare i nostri clienti. Passiamo a fare un saluto, raccogliere gli ordini, portarti le migliori ricette per casa e darti qualche consiglio se serve. Eh già, perché amiamo ascoltare chi usa i nostri prodotti con creatività per suggerirle ad altri, come tra amici. Tutto questo con la comodità del servizio a domicilio, che da oggi è ancora più comodo. Portati avanti sul nostro sito, salvandoti la lista della spesa e facendo il preordine all'ora che vuoi, quando vuoi, dove vuoi. Al resto ci pensano i nostri ragazzi. Dimenticavo, tutto questo sempre nella massima sicurezza. E voilà, il piatto è pronto, sano, sicuro e controllato. Iceman, per passione.